buongiorno buongiorno a tutti oggi è il 3 luglio domani il 4 luglio la presa della bastiglia che dire come state state bene avete dormito bene io dormito sicuramente adesso si va a lavorare tempo nuvoloso freschino da volenti spiriti come altri giorni boh e che diranno si va a lavorare vi auguro una buona giornata stati bravi iscrivetevi mi raccomando fate i bravi prima cosa iscrivetevi sono qua la fermata come vedete sono arrivando la fermata mi raccomando fate i bravi iscrivetevi saluti i miei parenti i miei amici spazi fa il mondo e che dire altro niente sono stanco stanco ieri ho fatto una bella pedalata 4 chilometri primi pedalata ha detto la stanchi il corathlon altro che dire niente vorrei andare a letto a dormire se è possibile ho fatto un caffè qua al bar magic che saluto non vi dire tante cose niente boh spremo bene che la voi lavoro sia tranquillo che alla giornata tranquilla passo in fretta prima cosa ho fatto un leggero un leggero in meccanio ma si usite ma piaccia il quanto che è il tempo tempo e si qua dicono tempo tempo e puli i bori fa qualche valore tradotto tempo sedere e signori farà qualcosa non loro come è così giudere vero meno male l'orecchio ancora si sente sento che troppo vorrei dire un'altra cosa vi ricordo solo una cosa il 14 luglio ore 20 30 al taranzano qua vicino non è tanto lontano c'è un bel concerto c'è un concerto particolare c'è le musiche di star wars chi piace questo genere di musica del film è il maestro canone che le anche suona tra la forza la prima in italia che fanno questo genere di musica qua continua forte supportiamo il maestro facciamo vedere la gente che venga finite venite se vi piace vestirvi anche di star wars avete qualche maggiore cappellino qualcosa di star wars portate trovo di star wars anche se avete il costume d'estate mettetelo anche se sarà caldo va bene lo stesso dai fate uno sforzo ok se avete amici che piace star wars portateli vedere merita è gratuito il concerto fate vedere se al massimo solo qualche gettone per maestro mi raccomando fate i bravi iscrivetevi 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 a me fate felice fate conoscere questa iniziativa al taranzano forse sarà in qualche altra parte d'italia sarà fatta non so adesso vediamo se qualcuno risponderà ancora all'appello altro che dire niente stanco vuoi andare in letto solo alla fermata che si vede si vede si vede la fermata alla fermata tra un po' arriva la mia coreana vi auguro una buona giornata saluto tiziana ivana graziana antonella antonella nardini con su marito saluto l'antonella da massacarrara antonella da cagliari l'antonella rigura e che dirai vi auguro una buona giornata saluto anche ivana ciao ivana buon lavoro per nuovo lavoro e che dirai forse coraggio vi voglio bene un bacio a tutti saluto anche saluto anche i cantanti di direci che mi seguono mi guardano che dire altro saluto una persona in particolare che saluto dal messico i miei parenti sparsi per il mondo dal marseille messico argentina greti e blablabla tutti miei parenti e che dirai scrivetili un abasto un bacio a tutti e spero che a tutti stai bene io sto bene grazie a dios sto un po' raffredato ma di capezza ma sto bene grazie a dios anche in italia tanto calore 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 un bacio a tutti e che dire vi voglio vi voglio bene e che dire sono pieni di raffreddore vorrei andare a casa a dormire ma non si può fare prima devi lavorare lavora 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 un bacio quattro cani che abbagliano che non è il stufo uffa 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 non ho i filtri per cancellare e vabbè vi voglio bene ieri ho fatto una bella salsa di melanzano di cacchino e taboli le rifaccio no dopo ho fatto i ravioli coi di tartufo quella quella wow 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 ravioli e il tartufo fra cui ho fatto sì ce li avevo ce li avevo il frittler e ho detto prima che li scadano anche sono scaduti i congelati li ho mangiati e avevo fatto guaglioli per prancirmi la tosta che dire niente vi auguro una buona giornata fate i bravi iscrivetevi sotto anche l'amico vitelli ciao domenico ciao vite carissimo spero che sei bene io sto discretamente e adesso si va a lavorare aspetto la corriera vi voglio bene ieri era il pardon non sono stato mai sono andato una volta da piccolino dico tante volte vado a grado vado a vedere il pardon ma purtroppo si non hai la barca per andare a vedere se no mi hanno detto che è adebito a festa tutto meglio c'è tanto bello tanto bello dopo cantano o madonnina del mare e tante canzioni sono contento del prossimo anno se troverò il modo di andare sotto tutti e che diranno niente vi saluto vi auguro una buona giornata e buon lunedì e buon lavoro a tutti buone vacanze che si riposa e bocca e lupo per l'ultimo colpo di esame dai fate vedere che è l'ultimo giorno di esame dai fatevi vedere ancora questo è poco ancora poche ore e dopo siete liberi vi voglio bene un bacione forte che dire altro mi raccomando ciao a tutti e a tutte e alla fermata la fermata della pt che vedete il teapiti tristante giurta sporti e tutto un bacio alla prossima ciao ciao ciao